Letizia Petris si confessa la dura realtà dopo il grande fratello. Dopo la conclusione del grande fratello, Letizia Petris ha deciso di aprirsi con i suoi fan sui social media, rivelando dettagli importanti sulla sua vita attuale e sui rapporti che ha stretto durante il reality show. La notizia più scioccante riguarda la fine di una relazione significativa nata all'interno della casa più spiata d'Italia. Letizia ha spiegato che, sebbene avesse sperato di mantenere certi legami, la realtà post show si è rivelata a diversa punto Letizia ha condiviso con i suoi fan il percorso di adattamento alla vita normale dopo l'esperienza intensa del grande fratello. Quando sono uscita ho avuto un picco di autostima e felicità. Adesso ovviamente sto tornando alla realtà della mia vita, guardando in faccia tutti i mostri nell'armadio e affrontandoli con una maturità differente. Non è così facile tornare alla vita normale? Pensavo fosse un po' più semplice, ha confessato. La transizione dalla vita sotto i riflettori del reality alla quotidianità è stata un processo complesso. Ma Letizia si sente più forte e determinata a superare le difficoltà. Una delle rivelazioni più sorprendenti riguarda il rapporto con un ex concorrente del grande fratello, Heidi. Una fan su Instagram ha chiesto a Letizia se avesse mantenuto i contatti con Heidi, ricordando con affetto il duo soprannominato e Edizia. Letizia ha risposto, le ho scritto parecchie volte, ma non ha mai visto. Le lascio il tempo di riprendere l'equilibrio della vita reale. Nonostante i numerosi tentativi di contatto, Heidi non ha mai risposto, lasciando Letizia con la sensazione di un rapporto interrotto. Tuttavia, Letizia non chiude completamente la porta. Se quest'ultima si farà risentire, lei avrebbe piacere a riprendere i rapporti. Staremo a vedere che cosa succederà in futuro. Nonostante le delusioni, Letizia ha trovato un solido supporto nel suo attuale fidanzato, Paolo Masella. Parlando del loro rapporto, Letizia ha detto, mi sta dando una grande mano a superare le mie fragilità e la paura che se ne possa andare via, come hanno fatto tutti. Ne sono grata perché non è da tutti trovare qualcuno che ti aiuti a curare ferite che non ha causato lui. Questo sostegno è stato fondamentale per Letizia nel suo percorso di recupero e accettazione dopo l'esperienza del reality. Letizia rimane speranzosa per il futuro. Aperta alla possibilità che vecchi legami possano riaccendersi e pronta a costruire nuove connessioni. La sua esperienza al grande fratello, sebbene intensa e a tratti difficile, le ha insegnato molto su se stessa e sui rapporti umani. Solo il tempo dirà se ci sarà una riconciliazione con Heidi o se Letizia continuerà il suo percorso senza di lei. Ma una cosa è certa. Letizia è pronta ad affrontare qualsiasi cosa le riservi il futuro con coraggio e determinazione.